Oggi durante il seminario abbiamo presentato il Fondo Energia, un fondo gestito da Unifidi, il Confidi dell'Emilia Romagna, il quale gestisce 36 milioni di euro di finanziamento pubblico a favore delle piccole e medie imprese e grandi imprese che investono in green economy nel territorio emiliano romagnolo. Per le imprese l'opportunità di avere finanziamenti fino a 500 mila euro, una parte pare al 70% interamente a tasso zero, mentre la rimanente parte del 30% con finanziamento bancario ha un tasso massimo dell'Euribor più 4,75%. Quindi un'opportunità per tutte le imprese del territorio emiliano romagnolo che investono in green economy di avere un finanziamento a tasso agevolato con una durata massima di 96 mesi. L'opportunità è per tutte le imprese andando sul sito www.unifidi.eu nel quale si possono trovare tutte le informazioni e l'opportunità di presentare domande direttamente attraverso il sito e quindi interamente online senza doversi presentare alcun ufficio e inviare nessun documento cartaceo. È stata aperta la seconda call del 15 novembre che si chiude con il 31 gennaio del 2018 e quindi la possibilità per tutti coloro che hanno bisogno di informazioni e di scrivere alla nostra email energia-unifidi.eu